benvenuti in salone della fiera di parma io sono roberto e la migliorità di modena siamo qua a visitare vari veicoli in questo caso abbiamo il 463 app visitiamolo la zona anteriore abbiamo due semplici sedili girevoli la parte anteriore un grande tavolo apribile troviamo letto basculante zona cucina con tre fuochi e sul livello parte posteriore troviamo due comodissimi letti gemelli con accesso con una comodissima scala integrato integrata nello sportello del garage omo da separazione zona giorno giorno notte con bagno e doccia separati la serie app in questo caso il tesoro 463 troviamo già accessoriata quindi un comodo tendalino dell'acqua abbiamo il pannello solare sensore di parcheggio tv e antena tv guardiamo anche un ampio garage con due porte d'entrata veramente molto grandi guardare Grazie a tutti.